Emergenza sicurezza nelle carceri irpine. Stamane si tina il volantinaggio del sindacato davanti al carcere di Belizia Irpino. La recente escalation di violenza e i danni di agenti penitenziari ha fatto scattare l'allarme in rosso, avvertono i rappresentanti di OSAP, SNAP, CISL e CGL. La polizia penitenziaria ovviamente sta subendo nell'ultimo periodo aggressioni continue e quotidiane. Purtroppo questo è l'affallimento della custodia aperta e della vigilanza dinamica che è stata ovviamente attuata negli ultimi anni. Cosa chiedete alle istituzioni? Chiediamo maggiore attenzione per i poliziotti penitenziari, maggiore risorse di personale, maggiori risorse in ambito della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Non c'è personale che riesce a sopperire a quelle mancanze che appunto sono oggettive per quanto riguarda le istituzioni detentive, in quanto le più delle volte siamo sotto organico come presenza nei turni e quindi dobbiamo sopperire a lavorare su più sezioni. Quindi questo crea un disservizio abbastanza grave perché diciamo che così un collega riesce, deve sopperire a quella mancanza e deve guardare due sezioni nello stesso momento. Nel carcere, emergenza sicurezza sanitaria, sottolinea il segretario generale della CGL, Franco Fiordellisi, si incrociano pericolosamente. Il segretario annuncia un dossier da presentare in procura. La vicenda del personale sanitario che è dislocato presso le carceri per tramite delle asle è un tutt'uno anche col disagio che vive il personale, le cosiddette polizia penitenziaria ma anche gli ospiti di strutture che sono in questo caso oltre in sovrannumero creano praticamente delle condizioni, oso dire, disumane, non solo per i lavoratori che siamo qui oggi a manifestare e a far sentire le ragioni sia verso la casa circondariale, dirigente della casa circondariale, ma in particolare dell'asle che da tempo oramai non risponde. Noi oltre ad essere stati decurtati nei numeri, il personale sanitario addetto e dislocato verso le carceri, hanno avuto anche ulteriori problemi con la riduzione dell'orario di lavoro. Ci sta un problema oggettivo quindi di riduzione dell'orario di lavoro e di mancanza del personale. Il mix con l'aumento della popolazione carceraria e con i tagli che si sono avuti sia nella sanità che nella popolazione carceraria determina un qualcosa di sfruttamento per i lavoratori e di dramma umano non solo per i lavoratori ma anche per gli ospiti. Questa è una cosa insostenibile, la denunceremo in tutte le sedi come già stiamo facendo.